Festival di Sanremo 2019, chi condurrà il dopo-festival.Ormai non è una novità, Rocco Papaleo condurrà il dopo-festival 2019 Per l'attore si tratta di un ritorno alla permesse musicale che ha condotto nel 2012 insieme a Gianni Morandi e Ivana Mrazova Ma chi accompagnerà questa volta Rocco? Spy, nel numero in edicola da venerdì 11 gennaio, rivela che Papaleo sarà affiancato da due attrici del cinema italiano Ovvero Miriam Leone e Michaela Ramazzotti. Salvo imprevisti dell'ultima ora saranno le due interpreti a commentare le varie serate dell'evento, che si svolgerà nella città Ligure dal 5 al 9 febbraio Spy rivela anche i primi ospiti del Festival di Sanremo 2019.Il settimanale diretto da Massimo Bornis anticipa pure i nomi di alcuni dei super ospiti italiani Oltre all'inedito duo formato da Andrea Bocelli e dal figlio Matteo, già annunciato, sono pronti nomi illustri come quello di Luciano Ligabue, di Eros Ramazzotti e di Marco Mengoni Baglioni Baglioni punta anche a portare sul palco dell'Ariston il nuovo super duo della canzone italiana, formato da Laura Pausini e Biagio Antonacci Al momento, come chiarito durante la prima conferenza stampa, non sono previsti ospiti internazionali Claudio Baglioni ha scelto Virginia Raffaele e Claudio Bisio.Per Sanremo 2019 Claudio Baglioni ha voluto accanto a sé sul palco dell'Ariston Virginia Raffaele, già ospite della passata edizione e conduttrice nel 2016 con Carlo Conti, e Claudio Bisio I cantanti in gara sono I cantanti in gara sono Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like